ciao valerio una tua nuova mostra a pistoia una mia nuova mostra si dopo tanto tempo circa più di due anni sei venuto sulla sala sono tornato a esporre le mie opere di pittura di scultura del marmo come si può vedere questi sono piccoli formati come tu sai si fa anche roba grossa momenti si è un bello spazio questo asena arte un nuovo spazio di pistoia che ci vogliono fortunatamente qualcuno ha il coraggio di aprire e fra un aperitivo e l'altro un pochino d'arte non fa male abbastanza anche noiosi sono fra tutti e ci vuole l'arte senti fin quando rimarrà detto alla mostra fino al 17 dicembre si possono vedere le opere bene allora niente ti veniamo a trovare sulla sala così ci racconti quello che hai fatto in questi mesi davvero piacere di ospitarvi e di spiegare quello che sto facendo benissimo ciao e a presto a presto a presto a voi